eccoci ragazzi per la quarantasettesima puntata di overwatch 2 parola d'ordine chill oggi zero a ranked ieri abbiamo finito l'ottavo giro lunedì ragazzi ne trarremo le conclusioni siamo chill ce la prendiamo un po' chill e poi lunedì trarremo le conclusioni ragazzi guardando un po' coi dati però è andata leggermente meglio rispetto ai primi quattro giri questi ultimi quattro giri allora what to do mi ha fatto vedere zeniata per qualche oscuro motivo non l'ho capito gira stena tenda non è così il testo però let's go ragazzi cosa ci propone l'arcade beach volley di winston lo proviamo which volley andiamo con me questo beach volley di winston mi spacca il nome il nome di un pacchetto di sigarette ok ci siamo le winston che pio junk rat junk rat skinnato salsa mare non si gioca a pallavolo da soli servizio utile non ho capito 3 2 1 vadi no dov'è la palla ci stiamo incasinando un pochino vero non ce la facciamo non ci voglio credere minchia abbiamo fatto schifo oltre che il possibile no mi sa che junk rat no ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ma guarda che non va bene sta situazione non va bene sta situazione non posso usare junk rat in questa modalità strana ma non va bene sta situazione non va bene sta situazione non va bene sta situazione non va bene sta da picchiare ok no mi dissocio ma la mia piccola amica Le ho flippate Sarà successo completamente a casal Ci sono, ci sono Non ci sono più Che schifo, che schifo Ho fatto schifo, mi vergogno Difficile sto gioco, raga Non fa per noi Ci stanno distruggendo Dov'è? Yes, ho fatto goal Attenzione Punto Si ingrana la marcia, ragazzi No Dai, dovevi dare un pugno A quanto si arriva? A dieci? Ghera, ghera Amica Amica E allora No, junk rat C'ha uno shift che non riesco a utilizzare In questa modalità Bastardo No Bravo lui Vabbè, il nostro primo game Ci sta, ci sta Il turbo Cioè il volo No Lasciatemi che guarda sono incazzato C'è il super pugno Ci vorrebbe a gente che può scattare, raga Pensavo di poterla farla saltare così Non va bene Devo cambiare il personaggio Non fa Nessuno può fermarmi Oh Ce la faranno? Minchia C'è una bellissima mossa Non salto abbastanza con la mina Ma doi L'ho colpito L'ho colpito L'ho colpito L'ho colpito No, lo voglio rifare con un altro personaggio Mi stavo divertendo Lo voglio rifare con un altro personaggio Mi stavo divertendo Lo voglio rifare con un altro personaggio Oh yes Vediamo chi prendere adesso Ok, non sbagliamo Para può essere un ottimo personaggio Secondo voi Usiamo Para Let's go Prego Ha un cazzotto più veloce Sembra Uh, che bel colpo che gli ha dato Fantastico Dai Lol Ace Servizio Servizio È fortissimo lui a fare il servizio Servizio Ma è fortissimo Ma io sono praticamente parte del pubblico Servizio Madonna Dai, mi ha rubato il gol Servizio Servizio Oh Eh, mica tanto Hanno sbagliato loro Servizio 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 Oh yes Servizio 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 Oh Ma che è successo la palla Servizio Servizio Avete già perso Vincibile Let's go Victoria Victoria Così Rapida È bellissima la skin di Para Azione migliore della partita GG Avete già perso Ma che azione ero? Perché? Continuiamo Ce ne facciamo un'altra E poi vediamo Cosa Continuare a fare Spiru Spin No Ma Una cosa Un dettaglio Quando faccio il corpo a corpo Fa più danni Se ha meno danni Cioè se ha meno vita No No Assolutamente Let's go Ci siamo Chi scegliamo adesso? Chi scegliamo ragazzi? Chi scegliamo? GG Proviamo a scegliere GG E quindi è questa la faccia di GG GG con la faccia da GG Fate un po' di baccano 3 2 1 E E Dai raga Perfetto E' forte GG In questa modalità Facciamo attenzione Fantastico Fantastico Via col servizio Una lama salda Una lama salda Una lama salda Oh Dai eh No Perfetto 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 Scivolone Provolone Scivolone Let's go Oh Carlo Ma porca puttana Non riesco No Amico mio No Su Rie che do Ho sprecato tutto Ma io sono Famoso per sprecare le ultimate Dio buon Ok 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 E l'abbiamo spinta bene ragazzi Spinta bene Spingiamo Servizia Oh merda Sì Vabbè Ci ho provato Ci ho provato Actus No Nessuno può fermarmi Ok Il potere Il potere ragazzi Il potere Non è servito a niente Però il potere È scorso in noi Si dice così Oddio Che è successo Minchia Molto radicale Wow Minchia Per poco ce la faceva Servizio Minchia Che botta Che io ho dato Troppo forte Sta botta Ma porca troia Ho fatto una botta Troppo Elevante È partita come un missile Dai su Che li incasiniamo No La ripresa Perfetto Che paranoia Altro che pasticcio Servizio Servizio Wow No Javek sbaglié Peccato Raga Due punti Ci mancano Due fucking punti Ok Ok L'abbiamo spinta No Ho sprecato Ho sprecato Raga Ho sprecato Minchia Avrò rotto le orecchie Di qualcuno Con questo urlo Dai su Dai su Dai su Dai su Boom Ragazzi Io l'ho fatta Rimbalzare nel soffitto Li ho incasinate Ci siamo Punto decisivo Punto decisivo Ah Fantastico Quindi la vinciamo così Troppo forte Mi dissolcio Scherzo Ma bella Quest'ultima giocata Proprio Me ne ho potuto far vedere una migliore Spirulalin Vediamo cosa ci dà Niente Un titolo Un titolo giocatore Va bene Andiamo a fare un po' di modalità Luciobol Altri tre incontri Luciobol Che ne dite Cos'è il remix Partite a squadra Partite a squadra 3v3 A Luciobol Con tanta azione Chaotica E palloni A volontà Partite a squadra 3v3 Luciobol Chi segna più gol Proviamo prima la normale Poi la remix Ma dobbiamo usare Luciobol Credo di no Credo che ce ne siano anche altri Buoni Succa Ma questa ragazzi È la skin del secolo C'è da capire quando utilizzare Il sinistro e il destro con lui Perché da vicino con bersagli grandi In realtà È quasi un fucile a pompa Utilizzare il destro Sidney Arbura Arena Tutti Lucio Non so come funziona il gioco È diventato un rocket Un rocket league Non è Mio Dio Non si capisce Ma io sto correndo Ma sembra che gli altri Siano più veloci di me Madonna Dai dai Bella Bella Ha fatto un gol supremo È diventato una sorta di rocket league Il gioco Ci sto io in porta Mamma Autogol Autogol Benissimo Fa ridere come lo dice In modo sarcastico 3 2 1 Bomba queste casse LOL Autogol Benissimo Di nuovo autogol Comunque Ok 3 2 1 Merda Me l'ha sottratta Ok Rimbalzo strano Mi si è glitchato un attimo il gioco No Ragazzoni Nei pavimenti verdi Fa saltare molto Da quello che ho visto Dovevo provare a sfruttare sta roba Che sogno importa 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 18 20 20 21 22 23 21 Non è Dai su Ma questo colpo Ma perché l'ha dato a lui? Ma non l'ho fatto io Secondo me è un colpo fatto da entrambi Tipo Allaoli e Benji Qualcosa del genere Yes Calano i dpi Quando c'è la vittoria Che fastidio Non mi piace Sta modalità Rispetto a quella di Winston Troppo caotica Poi io non capisco Porca miseria Minchia Questa si che è stato un bel tiro Comunque Proviamo il Luciable Remix Quella di Winston Mi stava divertendo Luciable Benvenuti ai giochi estivi Quindi come la mettiamo? Si parte 3 2 1 Su col volume Il tuo cazzo sta Le cose mi vanno al contrario Godus 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 Oh yes Ma questo non è stato bello Merda Merda Chiama attenzione Troppe palle in giro No Spostati Oh Micchia Che svalangata di gol Che si sono pigliati Che sbordata di gol Che si sono presi Raga 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 Ok Merda Autogol addirittura Va bene Lo accetto Minchia Omelette Ah no Qui Matt si chiama Ma devo far vedere La svalangata di gol Che c'è stato in un momento Era molto più figa Da far vedere Ma salva anche gli elite Di queste modalità No Ah invece si Mi ha salvato quella di Genji Allora Eh cosa Cosa abbiamo ancora Cattura la bandiera Sati fermo Deathmatch Misterioso Cosa vuol dire 8 giocatori Gioca in arcade Affronta modalità di gioco Ah no Qua è Scherola classifica Ogni giocatore usa eroi Che cambiano casualmente Ogni resurrezione No Non volevo giocarci Sto tentato Di fare Partita in normal Non ti flippare Ok Sì mi sa che mi faccio Qualche game in normal Eh l'arcade È bella Ma ogni tanto Bisogna farci una pausa Perché prende un po' I maroni Una certa Adesso mi giro Un attimo Una sigaretta Andatemi un attimo Di pazienza Unicover Come la va Tutto bene Ma stavamo Abbiamo appena finito Di giocare un po' Le modalità arcade Bicipoli Winston Ci ha divertito Devo essere onesto Modalità Luceable La classica Non mi piace La remix Mi ha fatto anche Ridere Devo essere onesto Per il resto Volevo darmi un attimo Una pausetta Dall'arcade E farmi una non classificata Per questa settimana Le arranche Ho già dato E poi lunedì Trarremo un attimo Le conclusioni Anche il da farsi Te giochi? Bene Mentre Metto in quevo Una partita d'attacco Spero che c'è il tempo Di fumarmi una sigaretta Molto rapida Veloce Indolore E insofferente Ed ecco E ritorno subito Faccio velocissimo Grazie a tutti Benvenuti a Oasi Azione migliore Della partita Eccomi Che è successo? Ho già iniziato Nooo La maledizione Hai iniziato Ed è finita Mi piglia per il culo Il gioco Ma allora Mi doveva far finire Di fumare la sigaretta Ma sto gioco Mi trolla ragazzi Mi so fatto una corsa Perché io c'ho l'anteprima Nel cellulare Ho visto che stava gioinando Ho appoggiato la sigaretta E mi so fatto Sta rampa di scale Che manco Rocchi Nei suoi peggiori film Le ha fatte così veloce Yes Ti aggiungo Aspetta Ti gruppo Mi sfuggono Tutte le parole del mondo Ah Stai già giocando Ah Fammo così Magari Finisci la partita Mando velocemente Un replay Una sigaretta Me la volevo fumare Onestamente Mando un attimo La Abbiamo qui Un replay Veloce Di questo Anzi di questo Che più E più questo E più questo che altro Faccio velocissimo ragazzi Tu fai tranquilla La partita Finisco la sigaretta Avrò più un minuto Ne ho bisogno Che show Hey 5 4 3 2 1 Attaccanti in arrivo Fermate in campo 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 7 9 9 10 11 5 6 6 6 7 8 9 12 14 8 8 9 10 10 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 24 23 19 19 22 23 24 25 26 Chi è FabioHolp96, ragazzi? Amico tuo? Giuniamo? Ah, sto avendo un bel po' di caldo. Teatro del Bel Canto, Rialto, provincia di Cagliari. Ma FabioHolp96, amico tuo, ha provato a unirsi alla formazione. Ah, scusate, ormai siamo in game, non lo sapevo, non lo sapevo. Allora, togliamo i canali vocali di tutti. Ogni tanto mi spavento e sento voci, non voglio spaventarmi. Allora, al prossimo game lo invitiamo perché mi sa che adesso è un casino. Ci dà la penalità se usciamo. Eh, la scimmia da dove ne è apparsa. Limone, limone, limone. Dai su. Un po' di limonata qua e là e risolviamo tutti i problemi di sete e di sali minerali. Pugliati un po' di sali minerali. Aia. Non mi incriccare il gioco, non mi incriccare il gioco, gioco. La sfera di uva. Che ho notato che mi ricarica anche il limone la sfera di uva. Poi non so se mi sto sbagliando. C'è c'è Kino che vuole le mie palle. Uh, ok. No, lascia stare la mia amica. Eh no, non ce l'ho fatta a salvarti. Aia, ci hanno disaldato tutto. Ah, si esce da qui. Mi stavo un attimo perdendo. È facile che mi perdo, sono un po' zoro di One Piece. Aia, mi stanno sparando il culo. No, pagatone, pagatone, un par di palle. Aiuto. Niente. Eh, il cechino ce l'ha fatta dopo il centesimo tentativo. Cioè, ce l'ha fatta headshotarmi. Cioè, ce l'ha fatta dopo il centesimo tentativo. Cioè, c'è una cecchina che ci sta stuvionando tutti. Cioè, c'è una cecchina che ci sta stuvionando. Ma via non so. Ma via non so. Andiamo. Un assaggio di delizio. Sono finito in acqua. Mi ha glitchato il gioco. Non sono riuscito ad andare nel ponte. Ma porca miseria a me. Mi ha scattato il gioco a casaccio. Proprio nei momenti peggiori della vita. E' un bel casino sto match. Può ridere. Perché i personaggi del gioco si flammano a vicenda. Dai, è saldatrice. Ok, è morta la saldatrice. Dai su. Dai su, spingiamo. Dove è finito? Ok, l'abbiamo ucciso. Non sfuggi dalla mia uva. Invece sfuggi. Invece sfuggi. Fa male, fa male. C'è il cecchino al di là. A ton pagatone. A ton pagatone. A ton pagatone. A ton pagatone. Eh, si sa che se si urla la mossa diventa più forte. A ton pagatone. Venite qui a curarvi. E vai. La panacea per tutti i mali. Uuuuh, fatti curare il junk rat mio. A ton pagatone. Dove sta andando sto qua? Non ci credo. Cugino Kaioken no. Eh, niente. Mi ha ucciso. Il cugino Kaioken mi ha ucciso. Let's go. No, non ci arrivo. No, non ti bloccare a gioco. Non è che se mi urli il tizone ti guidi mi si flippa il gioco. Che mossa è? È sleale. Vieni, pigliate un paio di panacea in faccia. Ok. Dileguiamoci. No, 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 no. Ok, sono riuscito a salvarmi. Vieni, vieni, amico mio. Dove vai? Dove corri? Minchia, mi ha deflacrato l'esistenza. Mi ha nuclearizzato. Mi ha distrutto. Mi ha sfinito. Mi ha polverizzato. Niente, il tank è morto. Dobbiamo chiamare i carabinieri per vincere. La panacea. Porca miseria, mi ha distrutto in un colpo. No. Abbiamo l'ultimate. No, non mi morire. Amico San. Amico Chan. Senpai, senpai, vieni qui. Anche tu, agente mio. Non mi morirà. Siamo. Super cure, super danni, super tutto. Tutto super oggi. Non è servito? Sì, è servito. Sono contento che sia servito. Trastiamo la scimmia. Winston. Ti devo ricostituire. Vieni che ti curo. Un po' di limone. Un po' di limone. Sto capendo un po' quel lungo. Minchia, mi ha seccato in un colpo, ragazzi. Sad. Che ha detto? Squadra Agnè. La squadra Agnè. Sì. Ciao. Aia. Aia. Ok. Mi ha riempito di piombo il bastardo. Oh, ma ha rotto il cazzo lo sniper. Minchia, lì odio. Pure con l'ultimate attiva, quindi ci vedevo. Porca miseria. Aia, siamo inguagliati. Sofferenza, resa, manifesto. Daie, dobbiamo fare il supplementare. La scimmia è morta male. Ok. Eh, va bene così. No, no, l'ha fatta Widowmaker. Non l'accetto di vedere. Eh, non ti posso elogiare. Che tristezza. Ah, come si chiama il tuo amico? Lui, sì. Ah, che stanchezza, ragazzi. No, ho fatto che sono uscito, ma senza mollare la formazione. Sono qui. Ah, ecco. Eh, raga, che stanchezza. Mi sa che faccio sto match e poi, per quanto riguarda la live, mi sa che stoppiamo per ora. Non lo so. Avrei un fottuto bisogno di fare una pausa. Tu, 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 tu. Ci siamo. Vediamo quanto cazzo ci mette a trovare un match. Colosseo. Siamo a casa di qualcuno. Absoluti Moira. Ma potevano fare la mappa del bastione di Cagliari, ragazzi. Se voi andate a vedere il bastione di Cagliari, lo dite, sarebbe una mappa perfetta per Overwatch. Non la libererò. Se hai bisogno d'aiuto, vola verso di me, Angela. Oh, mio eroe. Sei come un cavaliere volante in armatura. Ma come è possibile? Ma me li hai messi tu? Non c'è di ho che... Non c'è un plug-in, no? E mi vengono le paranoie a me. Ho ansioso. Mi hai fatto spaventare. Ma perché poi ho guardato anche nell'anteprima? Non è che c'ho davvero le orecchie? Aiuto. Diva! Io ti disaldo l'esistenza. Vieni qua che guarda che ti rovino. O è lei che rovina me. Aiuto. Obiettivo sbroccato. Vieni, ma perché mi si blocca oggi il gioco? Mi si blocca. Mi sta dando un fastidio. Non è... Non è indifferente. Ha fatto sto aggiornamento e l'hanno incriccato il gioco. Vieni, 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 vieni. Pazzo, non ti... Non mi scattare il gioco. Ma che cazzo di problema c'è? Raga, ci hanno bruciato. Aspettiamo che resti il team. Dai, l'hanno curato. Cioè, è un culo non indifferente. Peccato l'avrei ucciso in uno versus uno. Peccato, peccato. C'è sempre l'healer dietro l'angolo. Quello dei nemici che riesce a curarli, a salvarli all'ultimo. Let's go. Minchia, me l'ha neutralizzato bene. No, tu non te ne fai. Tu non te ne fai. Non è che siamo... Cioè, D.Va se ne va via così facilmente. Non esiste. Anche tu non te ne vai. Perfetto. Aspettiamo, curiamo la nostra di D.Va. Oh, yes. Che ci vado a fare? GG. Dov'è il nostro carretto? Mi son perso. La barricata si muove. Ah. Il misore tattico è attivato. Aia, qualcuno ha attivato il visorino. No! Bob! Il mio arci nemico. Meno male che D.Va c'è per togliergli i proiettili. Oh. Let's go. Ok No c'ha narcotizzato Minchia quanto dura La come si chiama Qua dietro non mi dovrebbe far nulla Ok No E' riuscita a ammazzarla allo stesso Pazzo Quella mercy lì sta riuscendo a salvare tutti Nel rotto della cucchia E' bastardo Ok abbiamo l'ultima Non ci dobbiamo far narcotizzare ragazzi Abbiamo ucciso il support nemico Anche l'altro support è andato Ok Ho sbagliato posto Ho sbagliato posto Io ogni volta sbaglio posto Dobbiamo impedire al nemico di avanzare Dobbiamo impedire al nemico di avanzare Muori Ok Mi sono salvato Salviamo la nostra diva Pi putti Davvero Li ha backati Bravo Procediamo Non sapevo manco a dove fossero i nemici Non sapevo neanche dove fossero i nemici Perfetto Perfetto Ha fatto la classica giocata che faccio anch'io con diva Let's go Eeeh Ci ho provato a lanciarti la sfera color limone Oh cazzo vai Ok 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 L'abbiamo ucciso Uccidiamo anche lei Perfetto Perfetto Tracer Let's go Perché mi scatta il gioco ogni volta che si palesa un culo nemico Ma è possibile Non ho senso Non capisco se è una questione di connessione Mi fa perdere Avrei premuto la shift Ok Spariamo 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 Ok No Ti ha buttato fuori Pazzo Ho mollato anche la sferetta No Stanno spingendo No 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 Tocca spingere di più Raga Spingiamo 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 Tiriamo Tiriamo la sfera All'uva Serve l'ultimate Siamo molto lontani Dall'ultimate Curiamo 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 Let's go Vieni Vieni Tracer amica Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Vuol dire Eres un botardo? Nel dubbio mi dissocio. Pipo papipo, pipo papà. Dai, facciamo l'ultima delle ultime. Cosa? Ah, quella cosa che ha scritto. Eres un botardo. L'ha scritto Roy. Chi è Roy? Signorino Roy. Era l'ana nemica. Ah, sei tu la tanca adesso. Quello ne devo focussare il limone su di te, praticamente. Spiegate un po' di limone preventivo. Ho sempre voluto andare all'avventura. Così. Zuff, zuff in faccia. La vuoi gialla o la vuoi viola? Let's go. Sempre devo dare le musate nei container. Pipote si è fatto in fretta. Impotesi delle ipotesi, 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 ipotesi. LER Distruggiamo lei. Ok ce l'abbiamo fatta Perfetto Che ce l'abbiamo. Perfetto grande. Io sei brava come tank No puretta Perchiamoci il limone con l'uva. So che è un concetto strano. Perchiamo il limone con l'uva Ok Abbiamo il raggio dei raggi Figliati il limone Non ti scattare Let's go Passatina di uva di là in fondo Gli farà bene Mamma mia il drago Mamma mia il drago Mamma mia la mia R La mia R caccia via i nemici Madonna quant'è scattagliata via La support nemica Tipi io Aia Ok Ok Perfetto Fantastico E li stiamo spolpando vivi Ipotesi interessante Dice la nostra Moira Ipotesi interessante Ipotesi ipotesante Bellina come è fatta diva dentro al robot in questa schiena Ipotesi interessante Ad ogni modo ipotesi interessante Let's go Dove sto andando? Ok Stavo sbagliando direzione La fine è prossima C'è simmetra? Eh sì Ho notato Ci simmetra ragazzi Ok Super cure ragazzi Sì mi servo un attimo per ricaricarmi Che sennò poi i limoni non ne ho più Ok I limoni super curati Super caricati Ci abbiamo tirato per una kill Ti proteggo io col mio corpicino Scherzo no Non ho un corpicino Oh no Oh no Cazzo volevo salvarti Mi friggono Mi friggono Eh niente No Ero intatta Potevo giocarmela meglio Impotesi interessante Dai non mi scattare Bastardo Porca puttana Sì tu sì Hai chiuso la loro diva stessa Sì hai chiuso la loro diva Ma tu che fare con i cinici La La Che ragazzo Che sento nelle cuglie Sì Ok curiamo divax Dai mi scatta il gioco Sta cosa Come finisco ora live ragazzi Devo fare Qualcosa per evitare di far scattare il gioco Perché oggi veramente è stato ando il peggio Vedi che mi scatta Cazzo che fastidio Porca miseria E' meglio ridere Cazzo Non c'è 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 Spera però non per male Sento voci Non riesco a concentrarmi Purtroppo Ok Oltre che mi va scatti il gioco Però se sento voci Sottofondo Che non capisco Raga non riesco a concentrarmi Ipotesi ipotesante Ipotesi ipotesante Let's go Ce la possiamo fare Let's go Mi scatta troppo Non capisco se connessione o pc Con me il pc che si è svegliato male Ogni tanto l'ho fatto di svegliarsi male ragazzi C'è geniata che ti ha messo il debuff C'è simmetra che ha messo le Le come diavolo si chiamano Aia non riesco a farti abbastanza cure Perfetto Perfetto Andiamo via Perfetto 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 Eh ho provato a flancarli Perfetto 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 Dai su Dai su Ce la possiamo ancora fare così Tipo plot twist Tipo plot twist ragazzi Let's go Let's go Aia Ma davvero questa Questa mercy ci ha distrutto da sola Venga è pure Jankrat grande Ho ucciso il support ma non lo so se riusciamo a farcela Perfetto Alti metti di coso Peccato dai Aaaaaaah Non fa vincerle tutte Orisa unicover l'ha fatta Questa è la vostra fine Mamma mia come follow coi nemici Non li Non c'è nessun altro che li followa bene come lei Attenzione Orisa confirmade main Eh Aiai ragazzi Aiai Allora raga Io What to do in this moment Allora io direi Che per ora Per questa serata di Overwatch è tutto Ho bisogno di andare a cena Ho bisogno di farmi un caffè Ho bisogno di un sacco di cose Devo essere onesto Ho bisogno di un sacco di cose nella vita Tra cui mangiare caffè Dai torniamo nel nostro canale principale Let's go Ho bisogno di un sacco di cose In questo momento Ho bisogno di un sacco di cose Ammbiare caffè Ciao Ho bisogno di un sacco di cose